L'agricoltore ha iniziato l'attività 10.000 anni fa e 10.000 anni fa ha iniziato a raccogliere informazioni, dati, esperienze da quello che accadeva nel campo. Oggi con le tecnologie digitali tutte le informazioni, le osservazioni che venivano fatte esclusivamente attraverso l'osservazione umana vengono potenziate dagli strumenti tecnologici. Abbiamo pensato di riconnettere questa nostra competenza tecnologica con le nostre radici. Come mio nonno, come tanti altri che lavorano in campagna, abbiamo voluto portare le nostre tecnologie al servizio di quello che era l'agricoltura. E così è nato Agricolus. Agricolus è un sistema a supporto delle decisioni, quindi noi prendiamo feedback dagli agricoltori, lavoriamo sulle principali decisioni che loro devono prendere per dargli poi un aiuto. Quindi lavoriamo sul miglioramento della concimazione, dell'irrigazione e della difesa fitosanitaria. Ma Agricolus va anche al di là dell'agricoltura di precisione e va anche a integrare tutte quelle nuove tecnologie, quindi la parte di machine learning, la parte di internet delle cose, quella dei big data, perché sono tante le informazioni che vengono raccolte e analizzate anche in tempo reale da Agricolus, per poter dare poi delle risposte puntuali e precise agli utilizzatori. Importante è anche i progressi che ha fatto Agricolus nello sviluppare un proprio sistema, grazie anche a un device hardware che si chiama Agriplug, che permette di tracciare la produzione dal campo fino poi alle nostre mezze. Agricolus è composto da un gruppo di persone con competenze tecnologiche spinte, informatici, esperti di satelliti, di sensori, ma anche agronomi, esperti di modellistica per l'agronomia, quindi la capacità di scrivere modelli previsionali. Il nostro team è composto da molte donne e più di un terzo di noi sono dottorati di ricerca. Quindi noi collaboriamo molto con centri di ricerca italiani ed europei, università, altre società all'interno di progetti di lungo corso che servono per sviluppare appunto queste nuove funzionalità. Questa è una grande opportunità per l'agricoltura, per diventare un'agricoltura sempre più sostenibile, sempre più attenta e rispettosa delle risorse naturali.